Benvenuti, state guardando Rapture, questa è la nostra prima puntata di una nuova stagione e anche per quest'anno non mancheremo i televis informati su tutto quello che succederà nel mondo urban e anche nei suoi mondi paralleli e collegati. Ed è stato questo il nostro racconto per quanto riguarda la Barcolana 2007. Bentornati, state sempre vedendo Rapture, noi siamo già all'interno del Fornarina Urban Beauty Show. I was working with them. It was nice because it was a very close collaboration because we had to mix our ideas together and to talk again about what we were thinking. Eccoci, ben ritornati a Rapture. Siamo finalmente arrivati sul backstage di Questo è il nuovo singolo, il nuovo pezzo di Fabri Fidra. Gli artisti più li butti giù e più ne arrivano, non si scoraggiano. Ottimo. Fuoco allora. Fuoco. Fuoco sia. Eccoci all'interno della Galleria Patrice Armocida che ci ha dato la disponibilità per riprendere queste bellissime installazioni che hanno fatto Osgemeo. Sia con tele che dipingendo sul muro, ma anche costruendo qualche particolare fatto a mano. Non è adesso è venuto il momento per noi di prenderci una pausa e andare in pubblicità, ma voi rimanete lì perché quando torneremo gli facciamo vedere questa bella intervista che abbiamo realizzato. Bene, abbiamo appena visto Serenity di Gentleman e siamo già qua con lui. È un piacere di essere qui. È un piacere di essere qui. È molto bene. Perciò come si intendo come hai già avuto a imparare i da in strumenti in Germania? No, no, no. La reggae musica è stata in mia famiglia i miei anni. Ma mio frate ha un fantastico selection di reggae di Reggae track. Benvenuti ad una nuova puntata di Rapture, un appuntamento del tutto speciale anche per noi, visto che siamo a Los Angeles. E dopo Common il suo spazio all'interno di Rapture è finito, ma noi continueremo a portarvi da club a club, da personaggio a personaggio, ma dopo la pubblicità. E per raccontare questi 25 anni di storia dell'Air Force One sono stati prodotti finora tre filmati. Gli ha lavorati Thibault, il regista con cui stiamo per parlare. E il primo si chiama The Promised Land, che racconta di come queste scarpe da ginnastica ormai mitologiche sono arrivate sui campi da basti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tu directi la video che abbiamo visto in questo programma, come è stato lavorato? È un'amaiata storia, la storia che è una storia di Air Force One. Come qualcuno come me stesso, che è un filmmaker, che è un sneaker entusiasta, sneaker fan di me stesso. È come un tipo di figlio in una storia di candy. Per continuare a commentare questa gara di skateboard che sta tenendo qui a Roma, siamo qui con Ben, che è il nostro ospite internazionale pomeriggio. Ben, 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 ben. Ciao, ciao. È un piacere di tenerti qui. Hai piacere il sentimento di essere qui a Roma? Sì, è incredibile. E la seconda volta qui, è una bella città. Che vorrete questa sera? Ah, stasera è una sorta di... tipo due giradischi e chitarra. Soltanto quello? Due giradischi e chitarra, una crudata, un po' come diciamo noi, una cosa... C'è una cosa semplice, pronta a mangiare. Sì, non semplice ma diretta. Esatto. Che ti arriva dritta, dritta, tra cervello e cuore. Benvenuti ad una nuova puntata di Rapture. Oggi vi portiamo in giro a Parigi per vedere due mostre molto interessanti. Io voglio continuare a parlarvi di Jeremy Ville in questa sua bellissima mostra che sta facendo qui a Dark Toys, a Parigi. Rieccoci, state sempre vedendo Rapture. RAPTURE Voglio parlarvi di un rapper molto interessante per quanto riguarda il panorama hip-hop underground americano. Tu hai in teoria un prodotto. È il single, certo? È il single, sì, su Macot. Con il clip di cui tu mi parlais tutt'al'ora, con la video e tutto per PC e Mac. Benvenuti ad una nuova puntata di Rapture. Oggi siamo qui alla Biennale d'Arte di Venezia e abbiamo un paio di appuntamenti da onorare. Questa è l'atmosfera che si respira qui al Night Rail per questa tesissima finale. Ci sono ormai gli ultimi rider che stanno effettuando le ultime run. E vedremo chi sarà il vincitore. Beh, lo attendiamo per intervistarlo. A dopo. Se volete scriverci, l'indirizzo è sempre quello. RAPTURE RATTLE MUSIC.TV E per il resto ci vediamo la settimana prossima. RAPTURE RATTLE MUSIC RAPTURE RATTLE MUSIC